GF VIP, Luca minaccia di voler abbandonare gioco, sto male, perché devo stare così. Innesimo crollo di Luca Salatino all'interno della casa del GF VIP 7, dove ha minacciato di voler abbandonare il gioco. L'extronista di Uomini e Donne, dopo aver avuto un confronto con la sua fidanzata Soraya si era promesso di voler andare avanti e cercare di vivere questa esperienza con spirito diverso. Peccato, però, che pochi giorni dopo quell'incontro, Luca si è sprofondato di nuovo nel baratro ed è scoppiato in lacrime perché sente di non riuscire a superare la distanza dalla sua amata. Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF VIP 7, Luca Salatino ha avuto la possibilità di rivedere la sua fidanzata Soraya. Che lo ha messo di fronte ad una sorta di ultimatum, proseguire questo percorso senza lamentarsi oppure uscire dalla casa e riprendere in mano le redini della sua vita. Alla fine, complici anche le parole della sua fidanzata, l'extronista di Uomini e Donne ha scelto di portare avanti la sua avventura all'interno della casa. Senza nascondere il fatto che si tratta anche di una promessa fatta alla stessa Soraya. Visto che con i soldi delle reality show, hanno intenzione di costruire il loro futuro di coppia. Luca ha così promesso che non sarebbe più crollato in lacrime e che, nel corso delle settimane a seguire, avrebbe vissuto questa esperienza con maggiore leggerezza. Peccato, però, che stamattina l'extronista di Uomini e Donne sia crollato di nuovo in lacrime al cospetto di Daniele Dal Moro. Luca è scoppiato in lacrime ed ha ammesso di stare male, perché continua a sentire la mancanza della sua fidanzata ed ha minacciato di voler abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia. Sto male. Io non sono così allora dentro di me dico, perché devo stare così? Per paura di cosa? Tanto se mi ami, mi ami uguale. Le persone che mi vogliono bene. Mi vogliono bene uguale, ha messo Luca confidandosi con l'altro extronista di Uomini e Donne che fa parte del cast di questa settima edizione delle reality show. Che devo stare a fare qui, ha proseguito ancora Luca Salatino che non ha saputo trattenere le lacrime confrontandosi con Daniele. Insomma, la situazione per l'extronista di Uomini e Donne sembra essere particolarmente tesa e a questo punto si attende la decisione finale circa il suo destino nella casa. Intanto, però, i fan social del GF Vipsi dicono stufi di questa situazione. Tanto da augurarsi che alla fine Luca possa decidere di abbandonare per davvero l'abitazione di Cinecittà e uscire di scena dal gioco. Cinecittà e uscire di scena dal gioco.